Siete sposato? No, no. Fidanzato? Sì. Dottor Palumbo, vuole essere così gentile da spiegarmi perché mi trovo qui? Caro Martello, voi non dovete mettere fretta. E qua la cosa è complessa, non è che ci possiamo spicciare. Noi dobbiamo capire bene chi siete voi. Pensate un po', tutto una vita. Bastene! Togliti dai piedi! Ma ricordati che mi ammazzo perché ne ho il coraggio io. Lo farò, lo farò! Guarda che per riuscirci bene i polsi li devi mettere nell'acqua calda. La signora De Matteis è stata assassinata. Qualumbo, per piacere, non mi faccia entrare. Io non ho visto neanche mia madre morta, mi fa impressione. Andiamo Martelli, l'hanno già portata via, forza! Sono stata io ad ammazzare la signora. Ma va! Io sono l'assassina! Te beccano nel punto giusto e poi già lo stiamo a mattare! Ma fermo, state! Tu invece, con quel ragazzo Bruno, con il cameriere, ma perché fai così? Mi piace. E poi tu che cos'eri? E lei, Nicoletta, l'ha mai fatto l'amore in marca? Beh, veramente non l'ho mai provato. Lei piacerebbe? Io non so fare le cose a metà. Se incomincio vado fino in fondo. Io voglio un pigiama! Come vi siete lasciati ieri sera? Niente, dormiva, sono uscito in punta di piedi. Sembrava che dormisse. Non sembrava! Dormiva! No! Era morta! Ad Algisa era morta. Finalmente, credetti di capire perché mi trovavo lì. ebbi per un attimo l'impressione che tutta la città stesse parlando di me. Che la polizia interrogasse un sacco di gente. E mi tornarono nella memoria facce, persone che avevo dimenticato da anni. Ma che avrebbero detto di me? È vero la calza? Grazie a tutti.